Beppe Grillo è indagato dalla procura di Milano, l'accusa traffico di influenze. Al centro dell'inchiesta della Guardia di Finanza, i contratti pubblicitari tra il blog del fondatore del Movimento 5 Stelle e la compagnia di traghetti Mobi, Giulia Palmieri. Un contratto biennale 240 mila euro in tutto, un accordo economico fra l'armatore Vincenzo Onorato e Beppe Grillo, la cifra pagata per vedere pubblicata fra il 2018 e il 2019 sul sito del fondatore del Movimento 5 Stelle e sui suoi canali social, pubblicità della compagnia di navigazione Mobi sotto forma di articoli redazionali. Occorre accertare la natura di quegli accordi economici, sostiene ora la procura di Milano, perché, scrive in una nota, in quell'arco di tempo Onorato ha chiesto a Grillo una serie di interventi in favore di Mobi e il garante 5 Stelle, scrive il PM, avrebbe veicolato queste richieste ad esponenti politici e dato riscontro di queste all'armatore. I PM di Milano contestano il reato di traffico di influenze illecite sia a Onorato che a Grillo, perquisite dalla Guardia di Finanza le sedi delle loro società e la casaleggio associati, perché anche con questo gruppo l'armatore sottoscrisse, sempre nel 2018, un contratto triennale da 1 milione 800 mila euro. Sono sereno, non commento gli sviluppi giudiziari, dico solo che ho grande fiducia nella magistratura. Il commento di Vincenzo Onorato. Il commento di Vincenzo,